Tante piccole gocce messe insieme possono formare un mare di solidarietà garantendo un aiuto concreto a chi sta attraversando un momento difficile. Filosofia che alla base del progetto Resto Sospeso, la tua spesa aiuta a noi a donare. L'iniziativa solidale è stata lanciata dal Banco Alimentare Campania Ollus insieme ai supermercati Sole 365, donando il resto della spesa effettuata nei 70 punti vendita campani. Gli acquirenti potranno aiutare le tante famiglie che versano in una condizione di difficoltà. Siamo onorati di questa partnership con Sole 365 che ci permetterà attraverso questo progetto del Resto Sospeso di poter incrementare ancora di più le persone da aiutare. Il Resto Sospeso è un'iniziativa molto semplice, si arrotonda il resto alla cassa, si dona qualcosa al Banco Alimentare, si cerca di portare un piatto caldo a persone che in questo momento sono in seria e grave difficoltà. La collaborazione tra il Banco Alimentare e i supermercati Sole 365 era iniziata già nel periodo natalizio. Adesso con il ricavato della campagna solidale saranno acquistati nuovi mezzi refrigerati per migliorare la raccolta degli alimenti e la successiva redistribuzione. Ogni mese infatti il Banco Alimentare aiuta oltre 200.000 persone, donando pacchi e sostenendo le menze per i poveri della regione. Come ha detto il Papa, da una crisi si esce o migliori o peggiori. E questa è veramente una delle tante occasioni che ci farà uscire dalla crisi migliori, aiutando gli altri e sentendoci tutti inutiti in questo momento di bisogno.